ciao a tutti amici benvenuti siamo tornati su video morto e faremo una missione di peccati buonasera ma io chiuso ok questo no 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 bellissimo non c'è il visore notturno non è possibile manco io cazzo mi sono scordato beh non fa niente no che se muoviamo bestemme è chiuso vedi allora da qua si entra è in corridoio di un ambergo c'è un nemico di fronte a noi con una migraietta come 12 davanti a te però non credo che voglia collaborare quindi io ti dico ammazziamo dove sta sta qua di qua aspetta entra dentro questa porta un inciso morto morto sei rito bravo no no ma la data è libera vai vai immobilizzami tutto minuto il tempo un po' di gioco 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 dove sei davanti aspetta vedo qua se c'è qualcuno più che altro vedi se stanno a trappola allora io non vedo trappola eh pare che sia un'altra stanza aspetta che voglio prendere una torce perfetto vai entro ok entro è in bagno puoi fu pulito colì è in bagno e mi faccio la torce vai entro c'è un civile là capito vai entra dentro a destra aspetta vai van da sinistra due ci vieni posto pulito arrestiamo mi cavi qua il gomico mi cavi qua sta l'altro bagno pulito pulito no, è vivo eh sì, quando li curi diciamo come sono curati io? no, non lo so praticamente le strain te li fa ok, io avanzo lo sceliamo qua verso sinistra vedo io, aspetta vai sbirci, sbirci tanto troppo le non ci stanno no, voi lo vede con la micro gun che ce l'ho indietro, indietro tanto trappole oh ma micro no, ma non mi ha fatto niente, è strano è una stordenne, vedi che la fa ah, era una stordenne, mi savo fosse una no, no, una stordenne aspetta, controllo qua no, questo è vuoto, mi sa che non c'è niente ti segua? si, ti seguo ma sicuramente abbiamo visto tutto qua mi sembra che c'era una stanza che non abbiamo visto eh, dall'altra parte del corridoio ah, ma sei da lì? andiamo, viene con me prima di scendere puliamo tutto il primo piano prima di scendere ecco, era questa aspetta, fa vedere micro gun cosa? oh, cazzo davanti a noi calmite a io dici calmite a io dici calmite a io dici apro chiuso sono finito pensavo stessi già a mirare no, 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 stavo a mirare però non mi aspettavo che stessi no no no, no, stavo a mirare però non mi aspettavo che stessi già a mirare ma non vedo il nemico è una stanza che palle ma sono stordenti bella lo sono stordenti sì tanto quando entra non mi dà un cazzo cioè non mi fa niente aspetta voglio contro un acquanato ci sta uno sulla porta aspetta a posto Gregorio aspetta so contro un Anton Goic e chi tu io qua non scendere oh che cazzo è so io ma dov'è ma hanno sparato da qua e vai in modo che la faccio per un no sta qua questo dove cazzo è ha ternato posso fuck off ormai è davvero dove è salito vai ok torniamo indietro e finiamo di pulire altre stanze ecco che mi ha sparato a me a posto è morto ok mi ha sparato un gruppo oh ti seguo ti seguo sei venito tu un pochino io braccio Bianca destra no sinistra scusa ecco questo a terra oh è una cucina non vedo nessuno apra c'è un civile vedo c'è una tappa vedo nessuno però non vedo nessuno ato non vedo nessuno Chi è? Sono Scevino Scevino? Due Sì Oh oh Ok Aspetta Buongiorno No ma Dante è arrivato prima io, non c'è niente Ah Caffa Un gun Vi prevede che chi sceglie Cazzo A sinistra qua Aspetta Appena apro la porta C'è un nemico Non so se c'è un'altra porta laggiù, quindi dai un'occhiata eh Ok Ma ha detto che non sia grande eh Avanzo, vai Testa Alla passata Alla passata Uno doveva morire per forza Si sa che è per me Si Ricarico Doveva salvare tutti i civili Il resto abbiamo fatto tutto Qua si possa lì L'hai fatto? Ok Vediamo A posto Finito Ottimo Ottimo Vediamo se ci sta qualcos'altro davanti F Noi 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 Noi